Alle porte di Belluno, a Riva Maor, due giovani imprenditori hanno aperto la Fattoria del Piave, un luogo per trascorrere un pomeriggio o un fine settimana a contatto con la natura e tanti animali. La Fattoria del Piave è un'oasi di tranquillità, dove alle mie spalle potete vedere l'area picnic e l'area barbecue, dove le famiglie possono passare in serenità, un sabato o una domenica, portandosi il loro cestino per poter fare il picnic oppure la carne per potersi fare un barbecue. È possibile inoltre visitare tutta l'area parco, sono circa tre eteri e mezzo di parco organizzato, dove poter conoscere e entrare in contatto con gli animali della Fattoria, da gli animali più scontati, più semplici della Fattoria, come le mucche, le capre, le pecore, a quelli magari un po' più particolari, ad esempio i lama o gli albaca. Negli anni, vista l'interesse e la curiosità dei nostri clienti, abbiamo aumentato anche il percorso, c'è un'area all'interno del bosco dove appunto si può inoltrare e alla fine troverete la voliera con i gufi, quindi poter mirare anche degli animali locali che possiamo trovare nella natura delle nostre zone e poterli vedere insomma da vicino. Altri animali particolari, avete ad esempio gli emu, lo struzzo australiano, c'è un ibis, un ibis che lui è libero quindi può volare, può spostarsi all'interno del nostro parco, lo potete vedere anche lui da vicino, si avvicina ed è molto curioso anche lui alle persone. C'è la possibilità per i bambini di fare il giro con il pony, quindi di provare un'esperienza della prima sella, quindi un giretto come il pony. Siamo aperti dal martedì al venerdì solo durante il pomeriggio, faremo tra l'altro in questo mese, nel mese di agosto, faremo delle aperture serali, dando la possibilità anche alle persone di stare a contatto con i nostri animali anche con temperature più basse insomma, anche per poter dare modo agli animali di riposarsi durante le ore troppo calde e poterli vedere in movimento e in attività anche nelle ore serali. Sabato e domenica, invece, siamo aperti tutto il giorno d'orario continuato, dalle 10 alle 18.30.